Ben ritrovati, eccoci come ogni settimana insieme ai nostri ospiti per parlare con i nostri telespettatori e rispondere alle tante domande che sono sicura anche oggi arriveranno. Allora saluto subito la dottoressa Mariella Ippolito, buon pomeriggio a tutti e bentrovati. Bentornato al dottor Cristian Scalmazzi, tra poco ci raggiungerà anche l'avvocato Pierpaolo Rodighiero e insomma cerchiamo come dicevamo di rispondere ai quesiti dei nostri telespettatori e tra poco, non so se già in collegamento, avremo anche Giuseppe Ursino commercialista che ci spiegherà nel dettaglio i bonus applicati per quanto riguarda sia le aziende sia i cittadini. Quindi c'è stata un'analisi della manovra finanziaria, un'analisi effettuata proprio dai dottori commercialisti della provincia di Cosenza. Ecco, lo vedo già pronto, collegato con noi via Skype. Bentornato dottor Ursino. Buon pomeriggio, ben ritrovati. Ecco, con lei partirei subito con questi bonus, avete fatto questa analisi, stavo dicendo, della manovra finanziaria insieme ai dottori commercialisti della provincia di Cosenza. Allora, nel dettaglio quali sono questi bonus che si applicano sia per le aziende sia per i cittadini privati? Sì, sì. Allora, finalmente abbiamo questa legge di bilancio 2023, la legge 197, che è in vigore l'1 di gennaio. E più che bonus, mi vorrei soffermare, abbiamo trattato ciò che riguarda le norme per la cosiddetta tregua fiscale, la cosiddetta pace fiscale. Le misure sono diverse, sono disparate, riprendono più o meno alcuni istituti che già abbiamo visto in passato. Sono disciplinate, faccio riferimento alle misure disciplinate dall'articolo 1, dai commi 153 al commi 252 della legge. E in particolare, diciamo che le misure più rilevanti, perché si vanno a toccare una più ampia platea di contribuenti, sono questo già da tanto discusso, lo straccio delle mini cartelle. Mi riferisco allo straccio delle mini cartelle per un debito inferiore a 1000 Euro, che praticamente funziona, che per i carichi affidati all'agente della riscossione, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, avverrà lo straccio automatico di questi debiti. Qui si tratta dei carichi affidati all'agente della riscossione da parte delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali. Ciò che è importante far notare in questa misura è che non rientrano, o meglio, rientrano parzialmente i carichi affidati da tutti gli enti di cui diversi da quelli citati adesso. Parliamo dei comuni, diciamo i comuni, perché molti comuni non aderiranno a questa possibilità. Esattamente, facevo riferimento ai comuni. I tributi locali qui non hanno uno stralcio parziale, perché innanzitutto la quota capitale non verrà stralciata automaticamente e per di più è subordinata alla delibera da parte dell'ente stesso, delibera che deve essere approvata e comunicata entro il 31 gennaio di scadenza adesso. La seconda misura... Sì, prego, prego, concluda. Sì. La seconda misura, quella che è importante a chi fa riferimento, è che si ha comunque una riproposizione della cosiddetta rottamazione, si avrà la rottamazione quota, che praticamente consente la definizione agevolata di tutti i carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 agli agenti della riscossione. Qui ci rientrano tutti i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali, dagli indici pubblici previdenziali e anche dagli enti vocali. essenzialmente questo che cosa consente di fare? Consente di ridefinire il debito, versando solo ed esclusivamente la quota capitale in 18 rate, 18 rate di cui le prime due dovranno essere versate a luglio, entro il 31 luglio e il 30 novembre del 2023 e consente così una diciamo una definizione del carico tributario a debito. L'altra misura che vorrei accettare Allora, prima dell'altra misura, dottore Ursino, noi rispondiamo un po' ai nostri telespettatori, intanto ci arrivano un po' di domande anche sul nostro numero Whatsapp, quindi rimaniamo sulla terza misura. Intanto c'è una domanda per la dottoressa Eppolito, ci scrivono, mio figlio prende il reddito di cittadinanza, però l'ultimo ISE è di 7.059 euro avendo fatto un progetto TIS. Chiede, dottoressa Eppolito, continuerà il figlio a prendere questo reddito fino a luglio? Allora, il limite, come attestazione ISE, rimane sempre invariato ed è pari a 9.360 euro. Bisogna vedere però quanto lui percepiva come importo, perché se giustamente ha avuto un rapporto di lavoro e ha guadagnato dei soldi che sono naturalmente stati superiori a quello che lui percepiva come reddito di cittadinanza, avendolo lui dovuto comunicare all'Inps, l'Inps avrà sicuramente ricalcolato il valore e quindi in questo caso o gli darà la parte residua oppure addirittura le viene sospeso se naturalmente quello che ha guadagnato è abbondantemente superiore a quello che percepiva come sussidio. dal soggetto che pone in essere l'operazione di acquisto. Allora, nel caso di acquisto della prima casa c'è la riduzione per quanto riguarda le imposte di registro ipotecario e catastale che invece di essere pagate in misura percentuale vengono pagate in misura fissa. Quindi se lei ha la possibilità di procedere all'acquisto non essendo intestatario di altri immobili potrà beneficiare dell'azzeramento delle imposte di registro ipotecario e catastali. Va bene, voleva sapere altro? No, solo questo diciamo. E poi per quanto riguarda i prestiti bancari, no? Come funziona? Allora, non esiste un'agevolazione per prestiti bancari per l'acquisto della prima abitazione. Cosa significa? Che comunque se voi acquistate la prima casa avete delle agevolazioni legate all'erogazione del mutuo perché sui mutui comunque gravano delle imposte. C'è un'imposta che si chiama sostitutiva, la quale è imposta se siamo di fronte all'erogazione di un mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, quindi della prima casa, in automatico queste imposte vengono ridotte. Va bene, non so se voleva sapere altro. No, ha già riattaccato il nostro... Allora, per quanto riguarda le agevolazioni per la prima casa, ci sono delle agevolazioni che sono anche della manovra di bilancio. La problematica di queste agevolazioni che sono legate ha dei limiti ISEE e dei limiti di età. Quindi, in caso di persone di giovane età con un ISEE non superiore a 40.000 euro, ci sono delle agevolazioni, ma che sono strettamente collegate poi alle garanzie che il soggetto deve fornire alla banca per l'accensione del mutuo. Perfetto, intanto saluto l'Avvocato Rodigliero, tra poco lo saluteremo e volevo far intervenire ancora il Dottor Ursino, perché ci stava spiegando un po' quello che è venuto fuori anche da questa riunione che l'Ordine dei Dottori Commercialisti ha fatto per quanto riguarda il territorio di Cosenza. Non so se è ancora in linea il Dottor Ursino, altrimenti prima rispondiamo ad un'altra domanda che ci è arrivata sul nostro numero Whatsapp e poi parleremo della terza, misura di cui ci accennava il Dottor Ursino. Allora, Bracciante Agricola ci chiede, vorrei sapere se ho diritto al bonus Renzi. Ancora c'è il bonus Renzi? Il bonus Renzi, sì, c'è ancora il bonus Renzi, però dal primo gennaio 2022 sono cambiate diciamo delle condizioni, perché riguarderà il mondante delle detrazioni che devono superare l'imposta netta. Quindi spetta di base, però poi bisogna vedere dalla Q che verrà rilasciata a marzo di ogni anno se effettivamente il contribuente ne ha diritto o meno. Quindi sono un po' cambiate le condizioni rispetto a quello che c'è stato fino al 31 dicembre 2021. Adesso si parla di detrazioni e di imposta netta. Se le detrazioni sono superiori all'imposta netta, il bonus Renzi viene confermato. Per poter verificare questo dato c'è bisogno del modello Q, che la lavoratrice avrà in consegna a partire da marzo 2023. Perfetto, abbiamo risposto insomma alla nostra telespettatrice che appunto chiedeva l'UMI sul bonus Renzi, perché visto il momento di crisi, lo dico sempre, qualsiasi aiuto che si possa intercettare chiaramente è un sollievo per tante famiglie che vivono situazioni non proprio di disagio, non sempre di disagio, ma sono al limite. Quindi, visti gli aumenti dei prezzi, quello che stiamo vedendo anche in queste ultime settimane. Intanto vediamo che con noi l'Avvocato Pierpaolo Rodighiero, bentornato Avvocato. Bentrovati, bentrovati. Allora, volevo far concludere il Dottor Ursino che è in collegamento con noi via Skype, appunto queste misure che vengono dalla manovra finanziaria. Eravamo arrivati, Dottor Ursino, al terzo punto. Sì, alla terza misura, ovvero alla definizione degli avvisi bonari, dei cosiddetti avvisi bonari, le comunicazioni di irregolarità inerenti al controllo automatizzato. Qui c'è un'importante misura perché questa è quella che riguarda la più ampia platea dei contribuenti. È possibile definire i controlli, il debito derivante da questi controlli che non sono scaduti e inerenti alle comunicazioni di irregolarità che riguardano le dichiarazioni per l'anno 2019, 2020 e 2021. È possibile ridefinirle con l'abbattimento della sanzione che ordinariamente, prima della legge di bilancio era al 10%, adesso abbattuta al 3% e in più la legge di bilancio ha prolungato il periodo di rateazione perché prima era previsto che per i debiti inferiori a 5 mila Euro erano previste un massimo di otto rate, ora è esteso a tutto il carico di debito, a prescindere l'importo, l'ha esteso a un massimo di 20 rate. Attenzione, qui ci rientrano anche chi sta già versando, chi ha già un piano rate di una comunicazione di irregolarità in corso, quindi ad esempio se si stanno pagando, se si ha un piano rate inerente a una comunicazione di irregolarità di una dichiarazione dell'anno 2016, 2017 o 2018 per intenderci, è possibile ridefinire il piano abbattendo le sanzioni dal 10% al 3% e allungando il periodo di rate. Perfetto, avvocato, quindi abbiamo un quadro un po' più chiaro da questa manovra finanziaria? Sì, certamente un quadro un po' più chiaro, sicuramente meno le aspettative di noi cittadini erano un po' diverse perché come abbiamo visto per quanto riguarda le cartelle che sono arrivati il carico delle municipalità, praticamente queste sarebbero oggetto di rateizzazione o rottamazione solo a volontà dei comuni. Sappiamo benissimo che i comuni hanno un grosso deficit, fanno i conti sempre con le casse semi vuote, per cui i cittadini che incidono molto anche le multe autostradali, quelle che sto dicendo nel perimetro cittadino, queste qui possiamo benissimo non affermarlo ma è l'evidenza dei fatti, non aderiranno mai ad una rottamazione di tali carichi, per cui si dovrà andare con le rateizzazioni normali. Sappiamo che le rateizzazioni normali includono mora e sanzioni per cui ci sarà il pagamento del debito totale a carico dei cittadini. Quindi adesso la prossima notizia sarà quale saranno i comuni che aderiranno, ecco quella poi perché saranno davvero pochissimi o nessuno. Sì ma stiamo osservando che i comuni a parte ad avere le aliquote a spingerle al massimo dalla percentuale che la legge consente e anche dagli enti di discussione privati cui hanno appaltato i servizi per il recupero delle somme di questi tributi non pagati purtroppo hanno una rateizzazione inferiore a quella che dà agenzia delle entrate e riscossioni per cui non sono nemmeno parificati. Con queste sono naturalmente delle decisioni delle municipalità che sono veramente hanno carattere liberticida perché in questo periodo così difficile praticamente non si dà respiro, si caricano le famiglie naturalmente di oneri. È vero che bisogna pagare queste imposizioni, è vero che bisogna pagare quando c'è una violazione alle norme del codice della strada, però è anche vero che i cittadini sono stressati sia per l'evento pandemico che abbiamo superato e soprattutto in questo periodo dall'omento vertiginoso delle bollette e ovviamente ogni buon padre di famiglia invece di farsi staccare la luce o il gas preferisce non pagare la multa o la tari. Quindi con buona pace di tutti quanti, ma questa è la realtà. Intanto abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto, buonasera, siamo da Cosenza. Benvenuto, prego. Sentite, io vorrei fare due domande all'avvocato. Sì. No, se ne fate una, concentrate meglio. Vabbè, è riuscito a prendere la linea, avvocato, quindi due domande si possono fare. Prego, prego, posso fare la prima domanda. Allora, la prima, buonasera, la prima sarà la Telecom, io ho un problema con Telecom, entro quanto mi deve rispondere la Telecom alla PEC, entro 45 giorni per come norma di legge o mi possono rispondere pure tra 3-4 mesi? Che tipo di problema ha con Telecom, se si può dire? Le hanno fatto un distacco? Le hanno addebitato? No, praticamente non mi ritorna, c'è un problema con la fibra, con la fibra già segnalato e tutto, però... Quindi lei ha fatto una PEC lamentando questi disagi, questi disservizi e non le hanno ancora risposte. Sì, naturalmente dentro i termini di legge, perché le norme regolamentari, soprattutto dei gestori, non hanno dignità di legge, ovviamente, quindi non possono andare oltre le disposizioni normative. Per cui, qualora il regolamento generale, che è per ogni contratto che stipulano i gestori, sono semplicemente regolamenti che non hanno nessuna efficacia in deroga alle norme di legge. Per cui loro devono rispondere entro i 40 giorni, se non lo fanno ci sono delle penalità, che questo è nel contratto legato al servizio, nella regolamentazione, questa si si applica quando ritardano nel dare risposta all'utente. Un'altra domanda, ma quanto partirebbe... Sì, prego, prego. Quanto? Quando partirebbe la rottamazione? La rottamazione si può fare già adesso, la domanda. L'importante è non superare aprile 2023. La rottamazione... Aprile 2023. Sì. E dove si possono, come ha detto il dottore Orsino, praticamente Orsino, si può mettere... Ma quindi, sentivo dire che c'è una... C'è il dottore Orsino, c'è il dottore Orsino in diretta. Le euro tolgono in automatico. No, c'è il dottore Orsino in diretta, ecco, che risponde. Da quando parte, dottore Orsino? Allora, la domanda può essere, deve essere presentata entro il 30 aprile 2023. Ad oggi non vi è ancora un modello, in questi giorni l'Agenzia delle Entrate dovrebbe rilasciare il modello di comunicazione. Quindi ancora... Non so se è tutto chiaro per il nostro telespettatore. Sì, tutto chiaro. Le auguro una buona serata. Grazie per la trasmissione. Grazie a voi, buonasera. Grazie a voi, come sempre, per l'affetto. Abbiamo un'altra domanda che ci arriva sul nostro numero WhatsApp. Ci chiedono, dottoressa Eppolito, del reddito familiare. Sicuramente si riferiscono a reddito di rispondenza. Ecco. Quindi suppongo sia questo il... Il numero familiare è composto da due persone, però non basta per... Vabbè, diciamo che possiamo dire in linea di massima i requisiti che bisogna avere per poter accedere al beneficio, in modo tale che almeno una persona si fa l'idea se potrebbe o meno rientrare nella misura. Allora, si parte dall'elaborazione del modello ISEE, dove l'attestazione del modello ISEE deve avere come indice di riferimento... Dottoressa, posso interrompere perché abbiamo un'altra telefonata, così dopo... Poi dobbiamo andare in pubblicità, così diciamo bene e con calma i requisiti per accedere al reddito di cittadinanza. Intanto abbiamo la telefonata. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Chiamo da Cosenza. Salve. Volevo sapere se quest'anno le addizionali regionali sono diminuite perché sul cedolino della pensione di gennaio ho trovato soldi in meno sull'addizionale regionale e in più volevo sapere, per quanto riguarda queste direttive europee sull'efficientamento energetico per gli appartamenti, ristrutturazioni, cappotto e via dicendo. Io non ho nessuna intenzione di farlo perché devo ancora finire in mutuo, me ne devo fare un altro per questa ristrutturazione tipo cappotto, infisse e via dicendo. Cosa mi succederebbe se non lo facessi? Chi può rispondere? Dottoressa. Per quanto riguarda quelle che sono le addizionali regionali e comunali non ci sono variazioni, non ci sono variazioni, quindi è rimasto invariato tutto come gli anni precedenti. Quindi mi sembra che la signora ha detto che si è trovata… Le regionali quest'anno da gennaio già mi sono aumentate, le regionali invece sono diminuite. Guardi, allora questo dovrebbe vedere poi nel complessivo perché nel cedolino di gennaio lei sicuramente avrà trovato delle operazioni di conguaglio rispetto alle trattenute che già le hanno fatto nel corso dell'anno. Quindi questo… Conguaglio di 1,90 euro. Quindi questo poi ecco, si dovrebbero vedere tutti i cedolini di pensione per capire la tassazione che era stata applicata. Devo aspettare febbraio quindi, il cedolino di febbraio? Il cedolino di febbraio vedrà che si normalizza la situazione, però comunque aumenti di addizionale regionale e comunale non ce ne sono stati. Dottoressa, se è aumentato il reddito dovrebbero aumentare o mi sbaglio? Certo, quello è proporzionale, io mi intendevo all'aliquota che le applicano. No, 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 io intendevo proprio come somma finale, visto che il reddito con la perequazione che ci hanno dato è aumentato il reddito. Certo, in automatico aumentano anche le imposte che vanno ad aggravare su quello imponibile. Però a gennaio ho trovato le addizionali regionali inferiori a quelli dell'anno scorso, nonostante il reddito è aumentato. Perché sicuramente nelle operazioni di conguaglio, riferite all'anno 2022, ci sarà stata qualche compensazione delle aliquote. Quindi non devo fare niente, me le tengo e basta. Sì. Per quanto riguarda invece i lavori che lei doveva fare a casa, c'è la possibilità di poter sfruttare i bonus edilizzi. Io a questo mi riferisco, ma il 10% per me è impossibile toglierlo, perché io già sto pagando il mutuo, con una pensione un altro mutuo non me lo potrei fare. Quindi al 90% non più al... Il 10% però è tantissimo. Certo, capisco benissimo. Capisco che il 10% è tantissimo, però purtroppo la normativa prevede comunque che una parte dei lavori sia a carico del proprietario dell'immobile che decide di eseguire le opere. Certo, questo l'avevo capito, ma voglio dire, se io non lo faccio, a cosa vado incontro? A nulla signora, se non lo fa non va incontro a nulla. Perché ancora c'è questa direttiva europea, si riferisce a questo, la signora che un po' obbliga tutti quanti a avere... Eh sì, è un altro mutuo, bisogna farsi un altro mutuo, io ancora devo offrire il primo. Vabbè, ancora non è, credo che, ancora credo che ci siano battaglie anche per quanto riguarda questa direttiva europea. Sì, per quanto riguarda gli adeguamenti sismici ed energetici, sì. Perché l'Europa obbliga tutti i cittadini ad avere le case con efficientemente energetico, però giustamente... Ma diciamo che era stato anche il principio ispiratore di quello che erano i bonus al 110%, che era quello di... Non l'abbiamo fatto in tempo. ...di adeguare, di adeguare quello che era il patrimonio edilizio esistente in Italia. Quindi i bonus energetici erano finalizzati soprattutto anche ad adembiera, quelli che erano degli obblighi imposti dal punto di vista comunitario, sia per gli adeguamenti sismici che energetici. Però giustamente bisogna rivedere un po' le cose... Signora, lei purtroppo se non ha... potrebbe comunque, se vuole eseguire i lavori, trovare un'azienda che può eseguire i lavori mettendosi d'accordo con la sua banca che eventualmente magari le rifinanzia e le rimodula il mutuo che attualmente sta pagando, per recuperare così sull'importo del mutuo, più o meno con la stessa rata, l'importo che le serve per fare i lavori. Però non credo che la signora voglia farli questi lavori perché dice non ho la disponibilità economica. Se l'Unione Europea ci obbliga a fare questi adeguamenti, molte famiglie si troveranno in difficoltà. Quindi io credo che il dibattito ancora sia aperto perché bisogna anche vedere le esigenze concrete e la disponibilità economica della maggior parte delle famiglie che ci sono sul territorio nazionale. Non tutti hanno la possibilità di... Allora io non so rispondere dal punto di vista legale, però nel momento in cui una normativa c'è degli adeguamenti vanno fatti, purtroppo nel non farli si rischiano le sanzioni previste dalla normativa. Sicuramente la normativa c'è in vigore e quindi gli adeguamenti da parte di tutti quanti andranno fatti. Poi se uno non ha la capacità economica per poter effettuare gli adeguamenti, questo poi diventa un discorso di contenzioso. Certo, intanto devo dare la linea alla regia per la pubblicità, però io capisco il punto di vista della signora. Mi obbligate a fare degli adeguamenti, ma io come li pago? E' questo, e molte persone la pensano in questo modo. Rimanete con noi. Ed eccoci di nuovo in studio, allora questa direttiva, devo dire, europea che obbliga all'efficientamento energetico degli immobili anche sul territorio italiano sta creando un po' di perplessità anche a livello del governo nazionale, quindi insomma non è un iter già avviato. Bisogna capire quello che accadrà, perché è chiaro che se si deve tutelare l'ambiente questo è indubbio, però i cittadini devono essere aiutati, quindi con un bonus come quello che c'è stato, un super bonus al 110%, perché molti cittadini non possono permettersi di pagare soldi, perché insomma anche il 10% e il 20% sono dei soldi. sui super bonus avvocato, insomma in questi anni ne abbiamo viste di ogni colore, no? Perché ci sono state un po' di anche irregolarità. I soliti furbi che magari hanno usufruito indebitamente di questi super bonus a discapito poi delle persone che in effetti hanno agito con linearità e che sono state penalizzate. Sì, stiamo parlando dei super bonus, quelli più famosi che sono partiti durante la crisi pandemica, quindi il 110%, soprattutto per quello che ha riguardato il patrimonio immobiliare italiano. Adesso sta continuando con il 90% e poi man mano si pensa che andrà a diminuire questa percentuale che non è gratuita. Ne abbiamo parlato più volte che praticamente la circostanza, la pubblicità, la comunicazione che si poteva ristrutturare tutto gratis, però bisogna andare a vedere che vi sono molte criticità e soprattutto vi sono pendenti per molti anni controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate e vi sono praticamente, si arriva da 10, 12, anche 18 anni, ne parleremo in una trasmissione apposta perché i termini sono molto anche estesi per quanto riguarda secondo le violazioni che possono, diciamo come incidente, essere una scoperta spiacevole per i condomini e quindi per i condomini. Sì, tra poco faremo intervenire anche il dottor Orsino che è ancora collegato con noi, ma abbiamo intanto una telefonata. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama? Chiamo da Spezione Albanese. Benvenuto intanto, prego. Io ho delle cartelle del Consorzio Bonifica che dal 2019 arrivano che non ho pagato e arrivano sempre con la moda. Adesso per non pagare la moda ma dare soltanto il prezzo. Chiedo scusa perché non so se l'Avvocato ha capito, io so che ci sono queste cartelle del Consorzio di Bonifica di pagamento dal 2019, poi un po' c'è un disturbo sulla linea telefonica. Signora, qual è la domanda? Lei dice che non deve pagare queste cartelle oppure vuole sapere altro? No, io voglio pagare soltanto la cartella originale, senza le more. A chi mi devo rivolgere per poter togliere le sanzioni? Ok, quindi, Avvocato, a chi si deve rivolgere? Vuole pagare soltanto? Non so se anche i nostri consulenti possono rispondere. Allora, la signora forse intendeva se con questa debitoria del 2019 riguardando il Consorzio di Bonifica si rientrava nella rottamazione, dove prevede il pagamento solo del debito togliendo le sanzioni e gli interessi. A quanto pare questa tipologia di debito, quindi relativa al Consorzio di Bonifica, non rientra tra le tipologie di debito oggetto di rottamazione, per cui non si può pagare solo il debito, ma si deve pagare il debito più sanzioni e gli interessi da quando sono maturati. Questo, insomma, in questo caso bisogna... Non rientrano proprio tra le tipologie di debito rottamabili. Ho capito. Dottor Orsino... Però bisogna andare a vedere, scusate, però voi non vi andate a preoccupare di non pagare alla mora, dovete andare a preoccupare. I terreni per cui vi chiedono queste quote consortili sono innanzitutto nel perimetro del Consorzio? Seconda domanda, i vostri terreni sono mai stati oggetto di lavori, quindi di bonifica di questo Consorzio? Perché altrimenti non è dovuto. Quindi si va in commissione tributaria per annullare totalmente questo onere consortile che spetta. Come abbiamo detto, i Consorzi di Bonifica, il perimetro è del dopoguerra e quindi dove prima c'era il perimetro del Consorzio di Bonifica, adesso ci sono città, per cui uno deve prima andare a vedere se sul proprio terreno è stato oggetto di lavori, perché gli oneri consortili si pagano in una prestazione di bonifica, manutenzione e quant'altro, irrigazione, quindi contenimento delle acque e quindi bisogna andare a vedere se c'è stato questo lavoro da parte del Consorzio, altrimenti non è dovuto. Per come si fa ad affermare che non è dovuto, entro 60 giorni da quando arriva la richiesta di pagamento da parte del Consorzio, in commissione tributaria e quindi quello è. Però dovete più andare a vedere quello, quindi non preoccuparvi se dovete pagare la mora o meno, andatevi a preoccupare se è dovuto o meno. Quindi fate in buona sostanza, fate vedere alla vostra associazione di categoria se siete un coltivatore diretto o qualcuno che ha diretta, diretto lavoro con i terreni o un commercialista, un'associazione di consumatori e vi sapranno dire senz'altro se vi entrate nelle ipotesi per impugnare, ma questo dovete andare a vedere, se è proprio dovuto. Intanto abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto. Salve, da dove ci chiama? Da Cosenza, buonasera. Volevo parlare un attimo con l'Avvocato. Eccolo. Buonasera, Avvocato. Mi sente? Sì. Ho ricevuto un'ingiuzione di pagamento dall'anno 2013 al 2021 dalla municipia comune di Cosenza di 3.024,36 euro, però premesso che io sono una pensionata minima di 600 euro al mese. Potrei contestare il tutto? No, per il reddito no, sicuramente no. A che titolo vi hanno fatto? Qual è il tributo che vi viene chiesto con questa ingiuzione di pagamento? Acqua e acqua, sì, acqua. Eh, però vi vorrei dire che se vi è arrivata la ingiuzione di pagamento, questo presuppone, presuppone giuridicamente che prima vi siano arrivate altre richieste di pagamento. Eh, purtroppo sì. Dove vi dicevano, guardate, vi facciamo l'avviso, guardate che non avete pagato, vi accertano quello che non avete pagato, per cui diciamo che non è impugnabile nel merito, quindi non è impugnabile questa ingiuzione. Però che cosa c'è? Adesso con delibera del 3 gennaio del 2023 il comune di Cosenza finalmente ha recepito le istanze dei cittadini e mentre prima per quanto riguarda il vostro credito congeleva 5 rate, quindi 600 euro perché andava pure a scaglioni, praticamente adesso consente una rateizzazione minima di 50 euro al mese fino ad estinzione del debito che diciamo è portato in ingiunzione. Però questo ve lo può fare. Poi vi ripeto, data la vostra situazione io vi consiglio di prendere appuntamento all'assessorata al welfare del comune di Cosenza andando a rappresentare la situazione che con 600 euro al mese pagando una bolletta naturalmente l'ultimo pensiero che avete è quello di andare a pagare l'acqua se non c'è qualche forma di sostegno da parte del comune, in questo caso l'assessorato perché è inutile andare a richiedere con 600 euro di pensione se non una rateizzazione a 10 euro al mese non so la telespettatrice come possa fare a pagare e sicuramente di questi problemi se ne deve fare carico il comune di appartenenza perché poi bisogna salvaguardare la socialità quindi se ti fanno stare male i cittadini non si fa un buon servizio perché ne arrivano tanti di casi come lei signora che praticamente si deve scegliere quale tributo pagare e quindi pagare la luce o pagare la spazzatura o pagare l'acqua però bisogna fare questa scelta sicuramente la signora non può stare al buio quindi sicuramente sceglie di pagare la bolletta della luce e non certamente l'acqua quindi l'ente pubblico deve intervenire in questi in qualunque modo però deve intervenire perché ci sono cittadini che devono essere ausiliati sicuramente e non si scappa su questo perché è un principio di giustizia sociale intanto concludiamo dottoressa Ippolito la risposta al whatsapp precedente per quanto riguarda i requisiti per richiedere reddito di cittadinanza perfetto allora per quanto riguarda l'attestazione Ise non deve il valore non deve essere superiore a 9.360 poi per quanto riguarda il patrimonio immobiliare escluso naturalmente non considerando la prima abitazione non deve essere superiore a 30.000 euro in più bisogna essere cittadini italiani oppure essere in possesso di un permesso di soggiorno illimitato dove bisogna risiedere in Italia almeno per 10 anni di cui gli ultimi due anni in modo continuativo non bisogna avere presentato dimissioni volontarie nei 12 mesi antecedenti la richiesta del reddito di cittadinanza non bisogna essere proprietari di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti alla richiesta del reddito di cittadinanza e l'autoveicolo non deve essere di cilindrata superiore a 1.600 questi sono i requisiti principali poi naturalmente a questo si aggiungono altre variabili perché ci sono dei casi dove le attestazioni ISE risultano con i parametri quindi hanno 9.360 euro di valore ISE però magari il reddito non spetta comunque perché ci sono come potrebbe essere il caso di questa signora dove ci sono due persone nel nucleo ma che comunque hanno il valore reddituale che è al limite con quello che è permesso per poter accedere alla misura stessa quindi bisogna comunque poi fare una valutazione soggettiva dell'ISE quindi questi sono i parametri generali intanto abbiamo un'altra telefonata pronto pronto buonasera buonasera chiamo dalla provincia di Reggio Calato benvenuto prego vorrei parlare con la dottoressa la sta ascoltando eccola sì pronto prego l'ascolto allora vorrei dire a dottoressa siccome io sono pensionato come invalido al lavoro sì sono stato operato nel 2019 ho avuto problemi pensionato ora io adesso ho 40 anni di contributi mi hanno pensionato per tre anni e a dicembre 31 dicembre mi è scaduta la revisione ho fatto di nuova revisione e sono stato confermato per altri tre anni quindi lei però siccome io ho 40 anni di contributi più altri due li ho versati 2021 e 2022 come imprenditore agricolo non dovrei passare come pensione definitiva allora lei ha la pensione di inabilità al momento quindi a revisione io ho più l'invalidità civile più l'invalidità civile allora io in questo caso sì le consiglio di recarsi ad un patronato in modo tale che le fanno un estratto contributivo aggiornato o meglio un ecocert perché effettivamente se lei ha 40 anni di contributi sarebbe il caso di presentare diciamo un'altra tipologia quindi la diciamo la pensione quella che non risulta più però lei è comunque percepisce questa pensione di inabilità quindi nel caso si valuta di presentare l'altra l'altra pensione sì deve recarsi al patronato va bene più altri due ho versato come imprenditore agricolo sono arrivato a 42 per questo sì deve deve rivolgersi al patronato suo di fiducia perché le faranno naturalmente tutte le verifiche se effettivamente risulta avere tutti questi anni che lei sta dicendo di avere o meglio le fanno un ecocert e nel caso si valuta di presentare l'altra tipologia di pensione certo va bene come hanno contributivi si intende dire no esattamente contributiva esattamente visto che ha 42 anni dice di avere quindi si valuta la pensione contributiva certo sì perché io momentaneamente ce l'ho come in bandità al lavoro non ce l'ho come hanno contributivi esatto lei ha preso questa pensione di inabilità perché ha avuto sicuramente questo incidente queste problematiche di salute perfetto sì 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 la deve deve rivolgersi subito al patronato assolutamente sì ho capito va benissimo ok va bene la ringrazio a lei salve grazie a lei per aver telefonato rispondiamo a qualche altro messaggio che ci arriva sul nostro numero whatsapp ci chiedono chi fa richiesta per fitto casa presentando un isei basso i soldi vanno al proprietario come dice la melone oppure si riferiva solo a chi prende il reddito sì solo a chi prende il reddito di cittadinanza perché sono due cose diverse chi prende il reddito di cittadinanza chiaramente a questa quota che si riferisce sia al pagamento del fitto per la casa e anche il mutuo in alcuni casi certo o si paga in misura pari a 280 euro mensile relativa al contratto di locazione oppure vengono riconosciuti a chi ha un mutuo per acquisto prima casa un importo di 150 euro al mese sempre ricaricati sulla diciamo sulla ricarica del reddito invece il fitto casa è un'altra cosa ancora stiamo aspettando sì una volta che diciamo c'è la graduatoria gli spetta naturalmente l'importo arriva direttamente l'accredito sull'iban del locatario quindi dell'affittuario abbiamo un'altra telefonata pronto sì pronto salve da dove ci chiama dalla provvisa reggio palapia benvenuto prego grazie anche a voi complimenti per la permissione grazie grazie per l'affetto grazie allora volevo domandare alla dottoressa impolito che io ho scoperto che ho l'epatite c se mi tocca qualche peggio per l'epatite c per l'epatite c l'hcv se c'è sì forse l'avvocato guardate dipende allora non è che la malattia determina una indennità la percezione l'incidenza della malattia sulla percentuale di invalidità quella sì per cui a seconda della gravità è il beneficio economico spetta per patologia se l'epatite vi ha creato un'invalidità civile con percentuale non inferiore al 74 per cento per cui già da lì anche con la solo per patologia voi avete diritto a questo beneficio economico però vi deve essere riconosciuta dall'inps quindi solo per patologia e questo dal punto di vista economico sapete benissimo che con tale patologia indipendentemente dal grado di invalidità avete diritto a tutti i protocolli praticamente sia gli ausili che vi servono sia la diagnostica la terapia quella è gratuita ma questo già lo sapete perché avete un codice a parte solamente riferito a questa patologia non c'è solamente l'epatite ma ci sono anche altre patologie che a seconda dell'invalidità portano sia al beneficio economico in casi più gravi naturalmente portano anche alla all'indennità di accompagnamento per cui per patologia si può avere però bisogna non è la patologia che del beneficio economico è il grado di invalidità che provoca la patologia a determinare il beneficio economico va bene va bene allora allora mi devo regare a un padronato no vi dovete regare al medico di famiglia il medico di famiglia vi fa accertare online lo fa anche il padronato tramite il medico all'interno del padronato devono trasmettere online all'inps con visione medica di prima istanza la visita per la valutazione dell'incidenza della malattia ai fini della proprio dell'incidenza dell'invalidità civile che vi residua dalla malattia va bene quindi questo grazie tantissimo grazie grazie mille io voglio tornare con dottor orsino lo salutiamo perché come vede questa è una trasmissione che viene fatta molto dai nostri telespettatori quindi avevamo concluso quindi il discorso su questa breve analisi chiaramente della della manovra finanziaria volevo farli intervenire soltanto sul sul bonus perché vedevo che quando prima parlava l'avvocato rodighiero sulle problematiche no che hanno interessato i bonus anche voi come commercialisti insomma avete avuto anche da fare ecco sì abbastanza anzi io vorrei esprimere un concetto che viste le il richiamo da parte dell'unione europea ad ammodernare i nostri edifici diciamo che il super bonus è stato da traino sia per effettuare questi questi lavori sia da traino dell'economia purtroppo si è creata un po di paura nei contribuenti nei committenti perché la legislazione è stata abbastanza dal dall'introduzione del super bonus del dl rilancio a ci sono stati forse un'altra decina di decreti che l'hanno modificato infatti invito andrà a leggere l'articolo 119 del dl rilancio e come modificato adesso ci sono stata altrettante circolare provvedimenti e centinaia di interpelli io vorrei rassicurare i committenti che comunque il super bonus ha una sicurezza perché sono chiamati diversi soggetti come l'asseverazione è necessaria l'asseverazione dal punto di vista tecnico di un tecnico abilitato iscritto in ordine professionale è la posizione del visto di conformità da un soggetto abilitato alla posizione per quando riguarda la conformità dei documenti quindi la paura purtroppo poi si va a creare anche si hanno problemi con la cessione con la liquidità del credito la circolazione del credito fiscale questo è vero speriamo che il governo metta mano allo sblocco dei crediti per quanto riguarda le banche però è una misura che ha fatto da volano e continuerà a far da volano a prescindere dalla dalla liquida che sia al 110 al 100 al 90 per cento così come all'ottando al 65 come è previsto prima del rilancio che però è una misura necessaria in favore a chi deve comunque effettuare dei lavori di efficientamento energetico o di sisma sui propri edifici perfetto io non so se abbiamo la possibilità di avere una tratelefonata si pronto pronto buonasera eccoci da dove ci chiamo benvenuto sento un informaggio le volevo chiedere un volevo fare una domanda alla dottoressa all'avvocato io sono un percettore il mio sono un disse ho due figli di cui uno è diventato maggiorenne e il mese di aprile dal mese di prima d'oggi con la domanda fatta non mi hanno dato più gli assedi familiari come mai capito oltre ad essere percettore di reddito di cittadinanza un disse al comune di guardia allora lei percettore di reddito cosa fa al comune di guardia sono un disse tisse un dilucinante ok ok si quindi gli hanno sospeso per come ho capito questo avete fatto la domanda di reddito di cittadinanza e non vi è stata accolta in valutazione no 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 il reddito di cittadinanza io lo piglio lo prende però non prende gli assegni se non ho capito male non prende l'assegno per il figlio giusto per il figlio maggiorenne per quello minorenne li sto pigliando per quello maggiorenne quando per il maggiorenne dal mese di aprile come ha fatto i 18 anni che è diventato maggiorenne bisogna aggiornare i dati dovete fare aggiornare i dati e dovete comunicare all'inps che il vostro figlio è impegnato in percorsi di studio di formazione allora abbiamo fatto già la domanda abbiamo già fatto la domanda sì però quando c'è nel nucleo familiare un figlio che compie 18 anni per poter continuare a percepire l'assegno bisogna comunicare che il figlio è impegnato o a livello scolastico sta continuando gli studi o è in un tirocinio e allora gli deve essere sbloccato oppure se non gli è stato sbloccato può darsi che l'inps richieda un o un'autocertificazione con la firma del genitore o addirittura un certificato di frequenza scolastica che potete trasmettere tramite o la pec del patronato che vi ha fatto richiesta o tranquillamente tramite il canale speed se siete in possesso di speed potete allegare il certificato l'autocertificazione direttamente sulla vostra pagina inps risponde che vi mette in comunicazione personalmente con l'inps allegate questo modulino e sicuramente la domanda vi verrà sbloccato quindi l'assegno di vostro figlio vi saranno riconosciuti gli arretrati da quando è stata bloccata va bene? va bene grazie comunque l'abbiamo già fatto e niente dovete sollecitare allora dovete sollecitare tramite il canale inps risponde se avete lo speed e l'ho fatto pure e mi hanno detto e allora l'ho fatto pure questo e cosa ne ha risposto l'inps? no ho chiamato pure all'inps e col canale e beh mi hanno detto mi hanno detto di offendere e allora ogni mese io faccio una telefonata e ogni mese mi hanno detto la stessa cosa e voi comunque da questo punto di vista dovete continuare ad insiste io vi consiglio però invece di telefonare ecco di tracciare la pratica attraverso i messaggini del canale appropriato nell'area dell'inps inps risponde addirittura sarebbe ancora meglio se lei ha fatto la trasmissione della domanda tramite il suo patronato di fiducia direcarvi al patronato in modo tale che vi fanno una PEC dove riportano il diciamo il protocollo della domanda riportano l'aggiornamento dei dati che è stato inserito in modo tale che non che ci sia un canale preferenziale però una PEC mandata dal patronato sicuramente viene gestita in tempi ancora più brevi rispetto alle comunicazioni del cittadino che comunque l'inps gestisce in tempi molto brevi e glielo dobbiamo riconoscere e anche celere nel rispondere alle domande da canale cittadino a inps per cui se vi hanno detto semplicemente di attendere è probabilmente diciamo è tutto a posto non c'è nessun problema però secondo me sarebbe ancora meglio farlo tramite il canale patronato se sono stati loro a gestirvi la pratica perché hanno magari un modo più diretto comunque chiamano o magari prendono anche un appuntamento in sede con una vostra delega e vanno a verificare se effettivamente c'è la completezza dei documenti che sono stati forniti da parte vostra Bene, io devo dare la linea, grazie per la telefonata, questa insomma è la strada da seguire per poi raggiungere il risultato devo dare la linea alla regia, rimanete con noi, torneremo tra pochissimo Ed eccoci di nuovo in studio, allora intanto saluto il dottor Orsino che è rimasto con noi fino a quest'ora e lo ringrazio chiaramente per la disponibilità, le auguro buon lavoro e grazie per i consigli che oggi ci ha dato Grazie, grazie al dottor Orsino e rispondiamo anche a qualche altra domanda che ci arriva sul nostro numero whatsapp ci chiedono, volevo sapere come funziona la social card, quali requisiti bisogna avere e quale reddito familiare ci scrive un pensionato, quindi ancora c'è la social card La social card è ancora vigente, naturalmente bisogna avere sempre un modello ISE che non deve superare i 7100 euro come importo e in più non bisogna avere un reddito superiore a 9100 qualcosa per quanto riguarda reddito singolo se si parla di reddito coniugale non bisogna superare 13.663 quindi questi mediamente sono i parametri, non credo che con il 2023 siano apportate modifiche che siano di gran lunga superiore a questi importi che ho fornito ma diciamo che i requisiti fondamentali sono questi quindi per tutti coloro che ritengono che possano rientrare con questi parametri invito a fare subito il rinnovo dell'ISE entro il 31 di gennaio e per chi ancora non l'ha fatta di presentare naturalmente la richiesta della social card Perfetto, a proposito di se ci chiedono il mantenimento dell'ex coniuge va inserito nei redditi da lavoro? Dove si mette questo mantenimento dell'ex coniuge? Nel modello ISE? Sì, c'è naturalmente una sezione dedicata al mantenimento dei figli al mantenimento del coniuge oppure mantenimento coniuge e figli quindi c'è una sezione dedicata dove vanno inseriti gli importi che si percepiscono dal mantenimento sia se riguarda il mantenimento dei figli sia se riguarda il coniuge e i figli quindi ci sono le parti che riguardano coniuge e la parte che riguarda figli Perfetto Distinti e separati Se si va da un consulente è facilmente risolvibile Certamente sì, naturalmente vanno inseriti sia per chi li percepisce sia per chi li eroga quindi anche la parte che naturalmente è a favore di chi perché se io devo dare un mantenimento e io devo fare il modello ISE anch'io che do il mantenimento devo naturalmente metterlo come mantenimento corrisposto e quindi naturalmente vanno a sgravare magari a decurtare l'importo dell'attestazione mentre per chi invece li riceve c'è la sezione nella parte di chi riceve A proposito di momento difficile per tante famiglie abbiamo parlato dei rincari di luce, di gas dovrebbero così il gas dovrebbe diminuire così? Queste sono rumors e così dottore Scalmazzi dovrebbe esserci questa buona notizia? Ci sono riduzioni per quanto riguarda l'equotazione del gas In convenso abbiamo le problematiche connesse all'aumento del prezzo del petrolio e quindi poi a caro carburante per quanto riguarda benzina e diesel Proprio oggi hanno confermato lo sciopero tra l'altro Hanno confermato lo sciopero e comunque ci sono previsioni che entro fine mese il barile dovrebbe toccare i 100 dollari Anche perché fa più freddo, soprattutto nelle zone dove fa molto freddo è questa ondata di freddo che stiamo cominciando a vivere fra sicuramente aumentare i consumi, quindi la richiesta e quindi aumenteranno i prezzi naturalmente Quindi queste sono le dinamiche di mercato Sempre a discapito delle famiglie Quindi che non possono magari utilizzare molto la macchina altrimenti si paga tanto di carburante Ben ben che è il bonus trasporti Certo, assolutamente sì È stato riproposto, riconfermato il bonus trasporti C'è una variazione però nei requisiti di accesso Perché mentre prima lo potevano fare tutti coloro che avevano un reddito al di sotto dei 35 mila euro Questa volta il reddito non deve essere superiore a 20 mila euro Per cui per chi dovesse naturalmente farne richiesta deve verificare bene che ci siano i requisiti Altrimenti poi giustamente in fase di verifica e di controllo la parte dell'Ende si rischia poi di dare indietro il beneficio che si è avuto non in modo corretto Certo, abbiamo una telefonata, pronto? Buonasera, volevo fare una domanda all'Avvocato Certo, da dove ci chiama? Da Rente Benvenuto, prego Grazie Avvocato, buonasera Buonasera Senta, io volevo chiederle questo Siccome sono in pensione Però in pensione perché praticamente ho avuto una malattia oncologica Quindi praticamente Niente L'Ende mi ha mandato a visita E mi hanno fatto inabile a tutto praticamente Io non posso svolgere nessun lavoro Sto prendendo una pensione nel mese di agosto Avevo 37 anni di servizio E in più Ho il 100% di invalidità Volevo chiederle Mi tocca qualche altra cosa a me? Oppure Quanti anni avete? Io ho 51 anni 61 anni 61 anni Allora Con i contributi non andate in pensione Voi avete questa indennità Perché vi deriva Questo beneficio economico Dalla invalidità che voi avete Avete il 100% Oltre ad avere Anche lavorativamente Non siete abile L'inabilità lavorativa al 100% Avete praticamente Questo beneficio economico Per malattia Non potete sovrapporre Perché praticamente Se avete l'invalidità riconosciuta Per questa malattia oncologica Non potete sovrapporre malattia Con invalidità per altre cause Premesso ciò L'unica cosa In questo momento Dato che avete il 100% Sia di invalidità Che di inabilità Assoluta al lavoro Se le condizioni Quindi Generali vostri Sono tali Che vi rendono Molto difficoltoso Se non impossibile Compiere gli atti Quotidiani della vita Quello che potete accedere È solamente All'indabilità Di accompagnamento Se ci sono I presupposti Altrimenti Ho fatto anche questo E me l'hanno respinta E me l'hanno respinta Perché ci Avranno messo Delle motivazioni La prima commissione Dell'Inps Entro sei mesi Avreste potuto Sussistendone i requisiti Impugnare Diciamo Questo verbale Negativo Però naturalmente Deve essere sempre Il vostro medico Che praticamente Valutando le vostre Condizioni Vedete se siete Abbisognevole Di aiuto Continuo O meno Non ci sono Diciamo Altre Diciamo Motivi Diciamo Per avere Altri benefici Già quello che Praticamente Praticamente Purtroppo per me Nel verbale L'invalidità Non c'è solamente Questo Fatto Ho avuto anche Altre cose Abbastanza Grazie Per questo È una valutazione Medica Quello che Chiaramente Deve passare Sempre attraverso Una valutazione Medica Non so se Sono passati Più di sei mesi Da quando È stato Può richiedere Può richiedere L'accertamento Quello che vi voglio dire Nel verbale Che vi è stato Rilasciato Praticamente C'è una scala Di valutazione Di percentuale Secondo delle patologie Riscontrate E lì potete andare a vedere Le patologie Che percentuale Patologia per patologia Vi hanno assegnato Al fine di darvi Il 100% Da lì potete andare a vedere Se non è solo La malattia oncologica Che vi ha determinato Il beneficio economico Quindi il 100% O altre malattie Se è il cumulo Di altre patologie Naturalmente Voi l'avete L'invalidità Solo perché siete arrivate Dal 74% In poi E non perché C'è una patologia Che è preeminente Per patologia Avete solamente L'esenzione Per quanto riguarda La diagnostica E tutto E la terapia Quindi quello Lo sapete già E quindi lo potete avere Non soltanto Per una patologia O ma per più patologie Sono i codici Che si mettono Sul vostro Sulla vostra Tessera sanitaria Ma diciamo Ma io volevo Sì Domandare questo Avvocato Se io Raggiungo Gli anni Che potevo Andare in pensione Senza Questa patologia No E certo Ve ne andate In pensione Ve ne andate Sì Quindi vado in pensione Ugualmente Oppure mi rimane Sempre questa qui Una Allora Lì mi pare Che va anche sul reddito La pensione Che si prende Che C'è la dottoressa Ippolito Che vi sta Dicendo Un conteggio Diciamo Un ricalcolo E viene considerato Anche questo Assolutamente Sì Certo Quindi la pensione Dovrebbe Aumentare Diciamo Eh sì Oltre la pensione Oltre la pensione Certo E' influenzato Dal reddito Però Certo Naturalmente Ci sono degli scaglioni Di reddito Quindi Il patronato Vi sa dire esattamente All'euro Quanto Prenderete Quindi Sia come contributiva Raggiungendo L'età anagrafica E sia Con questa indemnità Che state prendendo Adesso Per Invalidità Quindi Io L'età anagrafica Quando la raggiungerei A poco Mi pare 67 67 anni 67 61 Ancora Non ci siete Assolutamente 67 Ancora A meno che Non ci voglia andare Con la 103 Adesso No ma non No 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 Ma non ci rientra neanche Mi pare Non ha propri requisiti Per poter Andare Con la 103 E ancora troppo giovane Per la pensione Va bene Non so se voleva Sapere altro No Gentilissimi E tante cose Siete veramente Eccellenti Grazie Grazie sempre Per l'affetto Buonasera Buonasera Rispondiamo Rispondiamo anche a questo Nostro telespettatore Che ci dice Che ha lavorato Con l'amianto Per oltre 20 anni Come operaio Ci chiede però Nella mia posizione Rientro nelle agevolazioni Sui contributi Non so Non so se insomma Lavorando con l'amianto Allora C'è C'è La possibilità Di verificare Perché Per questa tipologia Di lavori Rientrano Tra i lavori Gravosi Quindi Il Diciamo Il telespettatore Se naturalmente Ancora non l'ha fatto Gli consiglio Di andare al patronato Perché Vengono fatte Sicuramente L'estratto contributivo E si vede Se Oltre ad avere Questo requisito Dei lavori Gravosi Se ci siano Anche gli altri Che naturalmente Le consentono Di presentare La domanda stessa Certamente Questo lavoro Che lui Ha fatto È considerato Un lavoro Gravoso E quindi Ci sono Delle agevolazioni Certo Telefonate Intanto Pronto Buonasera Salve Da dove chiama Da Cosenza Vorrei parlare Con la dottoressa Di Polti Eccola Buonasera Dottoressa Buonasera a voi Volevo Un'informazione Siccome Io sono Pensionato Invalido Civile 100% Con lo compagno Sì E giustamente Il 2021 Mi hanno aumentato La pensione E giustamente Il reddito Di cittadinanza Me l'hanno diminuito E ci sta Giustamente Ci sta Da 500 Me l'hanno portato A 200 Ma non ho ricordo Due vendi Poi piano piano Sembra scendere Piano piano Sembra scendere Sono arrivato A 10 euro A mese Sono andato Dal capo Niente Tre mesi A questa parte Anzi Io lo volevo Sospendere Comunque Tre mesi A questa parte Di 10 euro Mi hanno dato 115 euro È tutto possibile È un po' ballerino Questo reddito Del nostro Telespettatore Effettivamente Questi importi Che cambiano Di mese In mese È una novità A meno che Di mese In mese Il nostro Telespettatore È una situazione Rituale Che cambia Una variazione Quello sì Perché lei Ha avuto Un incremento Della pensione In varietà Quindi ci sta Però Che siano Importi Così differenti Effettivamente È molto strano Non vorrei Che ogni mese Sia cambiato Qualcosa A favore O a sfavore suo Che abbia potuto Fare questi importi Oppure L'Inps Non aveva Fatto Correttamente Il ricalcolo Quindi magari Ma l'ha fatto Il ricalcolo L'ha fatto Allora Facendo il ricalcolo Dottoressa Facendo il ricalcolo Da 200 Mi hanno portato A 10 euro Al mese Ecco E ci sta Poi Il mese Tre mesi fa Da 10 euro Di nuovo A 100 euro Sì abbiamo capito Abbiamo capito Perfettamente Allora io farei questo Io andrei Al patronato Dove Lei ha fatto La richiesta Del reddito Di cittadinanza Perché Allora Deve naturalmente Lei chiedere Spiegazioni Perché è nel suo diritto Chiedere spiegazioni Del perché Naturalmente Ci sono questi importi Che non sono costanti Perché Ripeto Ci può stare Un ricalcolo Visto che ci sono stati Degli incrementi Della pensione Però il ricalcolo Una volta che viene fatto Deve essere poi costante Fino almeno Alla fine dell'anno Per poi Ripresentare Un aggiornamento Del modello Ise Va bene Vedere se Quell'importo Rimane costante Per come Si era lasciato Alle spalle Se subisce Ulteriormente Variazioni Però lei sta dicendo Che è passato Un mese 10 euro Poi 40 euro Poi 115 E un po' strano Quindi quantomeno Fare un'interrogazione All'Inps E chiedere Il motivo Per cui Ci sono stati Questi importi Che sono cambiati Mese per mese L'Inps Le risponderà Sicuramente Questa Stamattina Sono andato al caffè Ecco E mi ha detto Il patronato Aspettiamo Che facciamo l'Isea Vediamo Che cosa è successo Quello naturalmente Serve per capire La variazione Che ci sarà Da quando È sempre la stessa cosa Sempre la stessa cosa Quindi chiederlo Proprio all'Inps A prescindere Dall'aggiornamento Ise Io farei Una interrogazione All'Inps Per capire Questa differenza Di importi Che lei ha avuto Da un mese Ad un altro Perché ci sono stati Perché c'è Una motivazione Da due Scusate Da due Cento Da due Cento Mi hanno portato Da due Cento Mi hanno portato Certo Però solo l'Inps Può darci una spiegazione E questo È Però Per poter L'ho preso Per quattro Cinque mesi Non abbiamo capito Sì Abbiamo capito Andate all'Inps Così poi ci fate sapere Il posto Mi hanno portato 40 euro Sì Allora L'unico modo Quello che diceva La dottoressa Ippolito È chiederlo All'Inps Come tramite Il patronato Oppure Se è in possesso Dello speed Tramite Il canale Inps Risponde Lei può conversare Personalmente Con l'Inps E chiedere Il motivo Per cui Nel mese di novembre Ha avuto 10 euro Nel mese di dicembre Ne ha avuti 40 Nel mese di ottobre Ne ha avuto 115 L'Inps Riporta Il protocollo Della domanda Del reddito Di cittadinanza In modo tale Che l'Inps Quando riceve Questa richiesta Con il protocollo Prende L'andamento Del suo reddito Di cittadinanza E va naturalmente A dare Le spiegazioni E le motivazioni Per cui Ha avuto Questa variazione Degli importi Assolutamente È l'unica cosa Da fare Purtroppo sì Perché Risposte Da questo studio È impossibile Che possano arrivarne Proprio perché Chi è materialmente Eroga Dobbiamo capire Nell'archivio Dell'Inps Che cosa È stato riscontrato Sulla persona E quindi Chiaramente Anche quando si va Al patronato Al CAF Dove è stata fatta La domanda Si possono fare Anche tramite Questi canali Le domande Se uno non ha Lo speed Se un pensionato Non ha ad esempio Lo speed Tramite il patronato Può chiedere Chiarimenti Chiaramenti all'Inps Oppure ormai Tutti dovremmo essere Dotati Di questo Dello speed Perché è fondamentale Per Per poter parlare Con qualsiasi ente pubblico Ecco Che è facilissimo Da Vogliamo Dirlo anche ai nostri Telespettatori Diciamo che Alla posta È un modo Molto semplice Per farne richiesta Perché si fa Una sorta di Prenotazione Online Che diciamo Molti possono farla in autonomia Dal canale www.poste.it Ci si prenota Ok Quindi si caricano Tutti i dati anagrafici Si fa richiesta Dello speed E poi si va Direttamente Con il messaggio Che arriva Sul numero di cellulare Dell'interessato Si va Alla posta E si va Naturalmente A fare L'ultima parte Quindi l'identificazione Personale All'ufficio postale Le credenziali Vengono lasciate Immediatamente Quindi non è Neanche Difficile Oppure si può avere La carta di identità elettronica Che consente comunque Di accedere sempre Ai servizi Della pubblica amministrazione Esattamente Sono quelle Delle cose pratiche No? Che è bene sapere Quindi o carta di identità Elettronica Tanto ormai Quando si va A rinnovo Della carta di identità Tutte elettroniche Non c'è più La vecchia Carta di identità Oppure Facendo lo speed Su questo dobbiamo chiudere Perché il tempo A nostra disposizione È terminato Grazie allora All'avvocato Rodighiero Per essere stato con noi Grazie a voi Alla dottoressa Ippolito Grazie a voi Scalmazzi Sempre per la disponibilità Il nostro mitico Luca Akito In regia E i nostri telespettatori Alla prossima Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti